signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e dalla scorsa stagione che parliamo con la scusa del sandbox delle campagne a mappa esagonale di esplorazione del territorio e di libertà che i giocatori hanno di spaziare dove preferiscono all'interno di una mappa sia negli esempi fatti sia nelle mappe che utilizzato nei video però abbiamo sempre dato per scontato che i giocatori si spostassero in un territorio grosso modo affine a quello che potremmo trovare nel mondo reale vallate fiumi città diciamo il classico paesaggio in cui i personaggi dei giocatori si muovono alla ricerca del dungeon in cui troveranno mostri e tesori il dungeon nello specifico è un trope fondamentale del gioco di ruolo fantasy e molto spesso le quest non sono altro che delle elaborate scuse che il master imbastisce per mandare i personaggi dei giocatori proprio dentro il dungeon ma a questo punto se le mappe servono ai giocatori per trovare i dungeon e le quest non sono altro che scuse per dargli un motivo per trovare quei dungeon perché non tagliare del tutto il middleman e ambientare direttamente la quest solo all'interno del dungeon naturalmente un dungeon che debba essere l'unica ambientazione di un'intera quest se non di un'intera campagna deve avere delle dimensioni sicuramente eccezionali per contenere tutto quello che i giocatori dovrebbero poter fare e in questo che sarà il primo di una serie di video andiamo a parlare proprio di quelle strutture sosterranee che si estendono così tanto in larghezza e soprattutto in profondità da essersi guadagnate il nome di megadungeon megadungeon in realtà è un termine relativamente recente che ha preso piede intorno agli anni dieci per chi come me un giocatore del secolo scorso probabilmente ha più familiarità con il termine super dungeon ma in realtà sono due termini del tutto equivalenti e per semplicità in questa serie di video userò il termine megadungeon semplicemente perché è quello che sembra che la deriva semantica abbia poi deciso di preferire cos'è quindi un megadungeon? quando parliamo di megadungeon non intendiamo semplicemente un dungeon molto grosso sicuramente avere delle dimensioni eccezionali ed essere fatto da un labirinto incredibilmente esteso è una delle caratteristiche del megadungeon ma da sola non basta un megadungeon vero e proprio è un ambiente così complesso e dettagliato da venire a formare una sorta di ecosistema chiuso al suo interno per certi versi separato dal mondo che c'è al di fuori più che a un dungeon molto grosso pensate a un mondo di gioco molto piccolo i megadungeon normalmente sono strutture così vaste e complesse da contenere al loro interno letteralmente un ecosistema diverso da quello che c'è all'esterno e anzi a volte più di un ecosistema e creature animali vegetali anche umanoidi che all'esterno non si troverebbero sì ovviamente come ogni dungeon che si rispetti anche il megadungeon deve avere la sua popolazione di creature ostili che mettano i bastoni tra le ruote i giocatori ma se in un normale dungeon un complesso di caverne una rovina abbandonata i giocatori potrebbero trovare una tribù di orchi o il negromante malvagio con i suoi servitori scheletrici nel megadungeon è possibile trovare intere città se non civiltà di umanoidi che raggiungono gradi di complessità pari a quelle che sono gli insediamenti maggiori se non direttamente ai regni delle terre di superficie anzi molto spesso i megadungeon sono così vasti e complessi che al loro interno è possibile trovare più di una fazione più di una civilizzazione e molto spesso questi gruppi sono anche in lotta tra di loro per contendersi le risorse del megadungeon i megadungeon come ho detto all'inizio non sono pensati per ospitare una singola one shot in cui i giocatori entrano, sconfiggono i mostri, prendono il tesoro e se ne vanno i megadungeon sono strutture titaniche la cui esplorazione anche solo parziale probabilmente porta via interi archi di una campagna se non sono l'ambientazione di una vera e propria campagna in cui la mappatura e l'esplorazione del megadungeon diventa l'epica impresa del party che viene portata a termine in mesi se non anni di quest nella maggior parte dei casi non è neanche detto che sia effettivamente possibile portare a termine l'esplorazione del megadungeon perché magari neanche gli abitanti stessi sanno fino a quanto un megadungeon si estende perché la struttura è in continuo di venire con gli umanoi o comunque le creature che ci abitano all'interno che continuano a scavare e aggiungere stanze e man mano che il megadungeon cresce va a inglobare caverne naturali, altre strutture sotterranee che hanno le vicinanze e fondamentalmente ingloba queste parti in se stesso diventando sempre più grande e continuando ad espandersi questa tendenza del megadungeon a inglobare parti di altre strutture è poi quella che causa la differenza di creature e di biomi al suo interno man mano che il dungeon si espande ingloba caverne che magari avevano un loro piccolo ecosistema e le creature che abitavano in questa caverna adesso possono espandersi e girare liberamente per il dungeon e le creature del megadungeon possono entrare in queste caverne la convivenza non necessariamente è sempre pacifica se avete dubbi a riguardo andate a chiedere ai nani di moria cosa succede quando scavi troppo in profondità non dovete però aspettarvi che i megadungeon siano un insieme infinito di stanze e corridoi popolati da mostri malvagi che cerchino di ammazzare i giocatori anzi, al contrario, come abbiamo detto all'inizio i megadungeon molto spesso includono al loro interno delle enclavi di creature senzienti che vanno a formare anche se in piccolo delle vere e proprie civilizzazioni per via della natura del territorio e in realtà per via del fatto che il megadungeon sicuramente è un ambiente estremo e pericoloso la maggior parte di questa gente vive in insediamenti letteralmente fortificati difficilmente si trova un simpatico villaggio di contadini molto più probabilmente si trova un'enclave corazzata e bunkerata da qualche parte per proteggersi dai pericoli del mondo esterno ma questo non la rende meno un villaggio di qualsiasi altro villaggio più normale che possa essere trovato sulla mappa del mondo di gioco pensate a questi insediamenti come a piccoli villaggi delle terre di frontiera è esattamente lo stesso modo se i personaggi arrivano portando oro o comunque qualcosa di valore al loro interno è possibile trovare negozi, artigiani, botteghe e magari anche locande che sono più che disponibili ad accettare i soldi dei giocatori in cambio di beni e servizi probabilmente saranno comunque più ostili rispetto a quello che ci si aspetterebbe da un normale villaggio di superficie ma più che altro perché molto spesso sono abitati da umanoidi che hanno culture diverse rispetto a quelle dei giocatori ma anche solo per il fatto che come abbiamo detto vivono in un territorio talmente aspro che la diffidenza è veramente un valore sociale all'interno dei loro enclavi per i giocatori comunque potrebbe rivelarsi un posto in cui possono fare degli ottimi affari anche perché magari inconsapevolmente i miei giocatori potrebbero portare con sé cose che per gli abitanti di un megadungeon hanno un grande valore il problema principale di un insediamento all'interno di un megadungeon è proprio quello che a meno che l'intera struttura non fosse stata originalmente concepita per essere abitata per un lungo periodo probabilmente mancherà di alcune delle risorse fondamentali per gli insediamenti principalmente il cibo e l'acqua come questo problema venga risolto dipende dall'ambientazione gli abitanti potrebbero commerciare con la superficie o magari hanno accesso a falde acquifere grazie a cui coltivano alghi o funghi o altri ortaggi che non hanno bisogno di luce in un'ambientazione fantasy magari possono produrre cibo e acqua per magia e per adesso abbiamo sempre dato per scontato che stiamo parlando di un fantasy ma non necessariamente un megadungeon potrebbe apparire una quest di fantascienza dove magari questi problemi sono stati risolti con metodi tecnologici colture idroponiche, illuminazione artificiale o quello che è considerate anche che un megadungeon dovrebbe essere talmente grosso da avere anche una sua fauna e flora locale non sarebbe così assurdo immaginare che all'interno dei chilometri quadrati di questa struttura si sia venuto a creare un ecosistema di creature magari cieche e albine pensate ai pesci che vivono in fondo all'oceano dove non c'è luce ci sono pochissime risorse, comunque un ecosistema di prede, predatori, creature che potenzialmente gli abitanti del dungeon potrebbero sfruttare sia magari come animali da allevamento ma anche più semplicemente cacciando e mangiando quello che trovano a questo punto però la domanda è se il megadungeon è un ambiente così ostile, pericoloso ed è scomodo viverci perché qualcuno dovrebbe non solo fondarci un villaggio ma anche solo prendersi la briga di scendere per andare a esplorarlo? la risposta ovviamente dipende in larga parte da quali siano i gusti del tavolo e gli scopi della campagna ma in linea generale per quanto il megadungeon sia ostile e ci siano palesi effetti negativi che vanno a rendere lo scarsamente abitabile ci sono anche delle motivazioni molto più positive che rendono andare in un megadungeon un'ottima idea primo tra tutti è che il megadungeon essendo probabilmente una struttura in larga parte artificiale può essere costruito e plasmato in base a delle logiche che lo rendano sia facilmente difensibile sia perfettamente adeguato a qualunque sia lo scopo per cui sia stato progettato detto in parole semplici è molto più facile difendere cinque corridoi che portano una stanza che difendere una vallata in cui il nemico potrebbe arrivare da qualunque direzione ed è molto più facile costruire un laboratorio in un ambiente che è stato costruito apposta che improvvisarne uno all'aperto o comunque in una zona in cui bisogna adattarsi a strutture naturali preesistenti senza contare che il dungeon in quanto struttura sotterranea non è soggetto a intemperie e alla maggior parte dei fenomeni ambientali atmosferici che interessano al mondo di superficie sarà difficile coltivare all'interno di un dungeon ma la piantagione di funghi dei nani non sarà mai distrutta da una grandinata o soggetta alla siccità perché esiste un ambiente regolato e controllato allo stesso modo un dungeon potrebbe avere biomi diversi in posti diversi del dungeon per via della presenza e dell'assenza di alcune fonti ma qualunque siano queste fonti sono stabili non esistono le stagioni nel dungeon una grotta piena di funghi resterà umida e piena di funghi 365 giorni all'anno a seconda dell'ambientazione anche alcuni degli aspetti negativi potrebbero essere in realtà aspetti positivi per una specifica creatura o magari anche una razza o un insieme di creature prendiamo ad esempio già solo Dungeons & Dragons che poi è il gioco che ha inventato il concetto di Mega Dungeon le catacombe sotto Castle Greyhawk che sono state letteralmente la prima quest di D&D di per sé erano un Mega Dungeon anche se all'epoca non esisteva neanche il termine per definirlo comunque Dungeons & Dragons è un gioco in cui i labirinti sottoranei e le civiltà del sottosuolo sono qualcosa di intrinseco nell'ambientazione se andate a vedere il mostrario di Dungeons & Dragons troverete che ci sono un sacco di creature che sono perfettamente adatte a vivere al buio e all'umido degli ambienti di un Mega Dungeon e tutto questo senza tirare in vallo creature come Non Morti o Costrutti o altre creature che per motivi loro non hanno bisogno né di mangiare né di luce e che quindi probabilmente anche avessero la possibilità di scegliere sceglierebbero comunque di vivere all'interno del Mega Dungeon piuttosto che farlo sulla superficie al di là di tutto questo anche se non ci si vuole andare ad abitare molte creature potrebbero voler esplorare visitare il Mega Dungeon per motivi di interesse già solo dal fatto che il Mega Dungeon a me è una struttura originale probabilmente in quanto struttura sotterranea ed enorme anche solo per essere costruito richiede delle conoscenze tecniche, ingegneristiche o magiche estremamente avanzate e complesse quindi chiunque lo abbia fatto potrebbe aver lasciato qualcosa di importanza culturale o delle conoscenze che potrebbero essere sfruttate per altro anche solo studiare come il Mega Dungeon possa essere stato costruito per qualcuno che si occupa di architettura o fortificazioni potrebbe essere di per sé un grande tesoro anche questo nello specifico dipende dall'ambientazione potrebbe tradursi in trovare oggetti magici o trovare antiche reliquie tecnologiche di una civiltà passata potrebbero essere conoscenze esoteriche conoscenze scientifiche comunque all'interno del Mega Dungeon potrebbe esistere qualcosa che ha valore per gli abitanti di superficie e che quindi gli avventurieri siano interessati ad andare a recuperare diciamo che per questo video è tutto e man mano che lo scrivevo mi sono accorto che c'erano un sacco di cose da dire quindi come ho detto all'inizio questo sarà la prima di una serie di video probabilmente due o tre non ho ancora finito di scriverli adesso le sto registrando comunque lo vedrete nelle prossime settimane barra prossimi mesi fino ad allora come sempre la parola sta a voi scrivetevi nei commenti qui sotto se voi avete utilizzato un Mega Dungeon nella vostra ambientazione o se avete intenzione di utilizzarlo o perché non lo avete fatto e non avete intenzione di utilizzarlo come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che è utacrescia nel canale iscrivetevi e schiacciate il tasto alla campanella se volete ricevere le notifiche dei prossimi video se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al gruppo iTelegram al server di Discord dove c'è il resto della community del Master Kai io sono il Master Kai e noi ci vediamo nel prossimo video 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 e noi ci vediamo nel prossimo video